Ciao a tutti amici YouTube e benvenuti in questo nuovo video. Il Black Friday adesso è davvero entrato nel vivo per cui ho selezionato per voi un po' di televisori al di sotto dei 1000€ perché è la fascia secondo me più ricercata e udite udite c'è anche un OLED di un brand che probabilmente non vi aspettavate. Prima di scoprire però, beh scusatemi per la presenza del tablet, è il T20S2G, arriverà poi anche una recensione su questo ma prima di scoprire quali sono questi modelli, solite raccomandazioni, iscrivetevi al canale se ancora non l'aveste fatto e attivate la campanellina delle notifiche perché è davvero l'unico modo che avete per supportare il mio lavoro. Vedete Black Friday praticamente ovunque. Inoltre vi dico che tutti i modelli di cui parlo li trovate nel primo link qui sotto nella descrizione con le offerte, con i prezzi e con la possibilità di vedere anche i vari tagli perché io ho selezionato per la maggior parte dai 43 ai 55 pollici ma ci sono anche le varianti volendo da 75 pollici che ad alcuni potrebbero interessare. Iniziamo subito con quello più economico a 279€ ho scelto la versione da 43 pollici dello Xiaomi F2 perché questo e non altri? Perché l'anno scorso l'avevo provato, mi era piaciuto tantissimo e credo che a 279€ in realtà le alternative che possono garantire un'esperienza d'uso simile siano davvero poche se non inesistenti. Il sistema operativo è Fire OS che è un sistema operativo eccezionale è un sistema operativo che permette ai produttori di avere un'estrema personalizzazione di tutti i parametri di tutte le funzioni ma soprattutto è estremamente affidabile non richiede processori estremamente potenti e quindi l'esperienza d'uso è davvero ottimale per chiunque da chi non è tanto avvezzo alla tecnologia a chi invece è attento ad alcuni piccoli particolari vuole un sistema operativo comunque fluido e snello e soprattutto compatibile con tutte le applicazioni di streaming multimediale il pannello ha il 4K, è compatibile con l'HDR anche l'audio non è affatto male è disponibile anche in versione da 50 pollici lo sconto non è elevatissimo in assoluto però diciamo che sotto i 300€ io prenderei assolutamente questo qui saliamo però subito fascia di prezzo perché con le varianti da 50 e 55 pollici della Xiaomi F2 andiamo fino ai 400€ arriviamo quindi ai 559€ del Nokia perché ho scelto questo modello? perché è uno dei pochi sotto i 600€ ad avere un pannello da 65 pollici 4K ma soprattutto con tecnologia QLED in questo caso il sistema operativo è Android TV è vero, non è il più recente però è anche vero che ha la Chromecast integrata ha un buon pannello ha alcune chicche come per esempio il telecomando retroilluminato che reputo molto più utile rispetto ad altre funzioni integrate da altri produttori che in realtà provocano un po' di scompiglio e confusione negli utenti finali avere il telecomando retroilluminato ti permette dopo tutto di vedere i tasti anche al buio e non per forza dover accendere una luce o memorizzare poi tutti i tasti avere Android TV inoltre ti dà la piena compatibilità con tutte le applicazioni di streaming multimediale e questo è sicuramente un vantaggio c'è Paramount+, c'è Disney+, c'è Netflix e tutte le altre che bene conosciamo inoltre devo dire che in quanto ad affidabilità Nokia comunque continua ad insegnare io ho provato un TV della Nokia da 43 pollici adesso l'ho dato ai miei genitori e continua a funzionare senza indugi non ha avuto bisogno di configurazioni particolari una volta impostati i canali dell'antenna sono stati memorizzati e sono rimasti lì dove stavano di questo televisore c'è anche la versione da 55 pollici ma anche versioni da 43 e da 32 pollici anche se quest'ultima perde la risoluzione 4K in favore della risoluzione HD saliamo ancora un po' di prezzo e arriviamo adesso a parlare finalmente di TV mini LED perché ho fatto questa scelta? perché a mio modo di vedere non ha più senso scegliere una normale retroilluminazione LED quando iniziamo a spendere 600, 700, 800 euro soprattutto perché il mercato comunque inizia ad offrire parecchie alternative interessanti una di queste è senza ombra di dubbio l'ISENSE ULED U72KQ è un modello del 2023 e soprattutto è un modello che è adatto anche per i videogiocatori perché ha un refresh rate fino a 144 Hz supporta il Dolby Vision EQ, supporta l'HDR 10 Plus e soprattutto supporta 144 Hz all'HDMI 2.1 integrata con la modalità Game Mod Pro che appunto permette di sfruttare appieno tutta la potenza dell'HDMI 2.1 questo è il televisore che posso consigliare non solo a chi appunto ha queste esigenze quindi un televisore da 55 pollici che abbia una qualità medio alta dell'immagine tra l'altro a me e i televisori iSENSE piacciono particolarmente perché riescono ad avere una pasta dell'immagine davvero molto gradevole in tutte le situazioni ci sono due robe da valutare soprattutto il sistema operativo il Vida U arrivato alla versione 7.0 non è tra i più aggiornati per quanto riguarda la compatibilità con le applicazioni ci sono praticamente tutte tranne le ultime, le più recenti tipo Paramount Plus non potete averla però per il resto avete comunque l'Apple TV avete comunque Netflix, Disney Plus che è arrivata negli ultimi anni insomma è abbastanza aggiornato ma non stra-aggiornatissimo tra l'altro integra in maniera nativa Alexa per cui potete controllarlo con il vostro dispositivo Echo anche per gestire il cambio dei canali o per chiedere altre informazioni secondo me è uno dei TV più allettanti è vero anche in questo caso lo sconto non è da strapparsi i capelli però è comunque sotto ai 700 euro c'è la versione da 55 pollici ma anche da 65 pollici che rimane comunque sotto i 1000 euro ed è secondo me una TV da valutare attentamente adesso passiamo ai brand un po' più noti perché vi parlo dell'unico OLED che ho inserito in questa classifica e una novità recentissima di quest'anno ve l'avevo fatta vedere in anteprima è il Panasonic MZ700N la versione tra l'altro da 48 pollici quindi quello un po' più compatta che meglio potrebbe adattarsi alle case di noi italiani ed è una novità assoluta perché integra per la prima volta nella storia di Panasonic il sistema operativo Google TV questa è una grandissima novità perché Google TV è un sistema operativo che a me personalmente piace a livello di interfaccia ha tutte le integrazioni possibili con le applicazioni di ultima generazione è snello, è veloce, c'è una roba da valutare non vi aspettate la qualità dei top di gamma OLED di Panasonic in questo caso il pannello è un OLED diciamo basico entry level però è comunque un OLED per cui i neri saranno comunque di ottimo livello e la gestione del sistema operativo Google TV permette comunque anche ai meno avversi di configurare per esempio il televisore con il proprio smartphone proprio come è avvenuto con il televisore alle mie spalle e questo è sicuramente un vantaggio anche perché abbiamo comunque la Chromecast integrata e la compatibilità con il Dolby Vision e il Dolby Atmos oltre alla presenza naturale dell'assistente vocale Google che comunque è tra quelli che preferisco anche perché è quello che più di tutti riesce a capire meglio quello che gli diciamo secondo me un TV da valutare in maniera molto attenta c'è la modalità gaming anche se il pannello comunque rimane a 60 Hz e il prezzo è di soli 839 euro per cui da valutare secondo me se volete un OLED comunque intorno agli 800 euro saliamo di poco circa 60 euro in più per arrivare a uno dei TV che ho più consigliato quest'anno sotto i 1000 euro ovvero il TCL C84 nella versione da 55 pollici di questo TV esiste anche la versione da 65 pollici e da 75 pollici che però superano i 1000 euro ed è proprio per questo che ho scelto quella da 55 pollici è un televisore secondo me davvero davvero molto valido retroilluminazione mini led tecnologia QLED quindi un angolo di visione migliori e contrasto migliorato 144 Hz l'HDR arriva fino a 2000 nits quindi davvero una luminosità esagerata per un televisore di questo tipo e soprattutto il sistema operativo è Google TV e abbiamo anche un impianto audio realizzato in collaborazione con Oncchio quindi davvero un pacchetto molto molto completo non solo per chi vuole una TV con cui guardare serie TV, film, antenna e insomma la TV tradizionale ma anche per chi vuole spremere al meglio sia i contenuti in 4K HDR sia i videogiochi proprio perché questo è un pacchetto molto molto completo con retroilluminazione mini led quindi si adatta secondo me molto a tutti coloro che utilizzano la TV in maniera tradizionale quindi non in una sala cinema magari al buio in determinate situazioni ma appunto un po' tutto il giorno magari in ambienti molto illuminati o comunque con la luce accesa il C84 è secondo me da preferire ma l'avete chiesto in tanti anche al QM8B è vero che il QM8B costa di meno ma insomma io preferirei prendere il C84 perché ha due o tre caratteristiche migliori che ovviamente vanno ad impattare la qualità finale e l'esperienza d'uso finale ovviamente avere il sistema operativo Google TV significa avere anche gli assistenti vocali di Google e di Alexa integrati all'interno vi ricordo che appunto tutti i televisori nominati all'interno del video li trovate nel link qui sotto nella descrizione passiamo adesso a quello più costoso ovvero il Samsung QN94C voi mi direte ma Toto che differenza c'è tra C e B e allora la C nei modelli Samsung indica l'anno di produzione del televisore in particolar caso la C indica il 2023 quindi la B indicherà il 2022 e la A il 2021 il QN94C è una versione diciamo personalizzata per il mercato italiano e per la vendita su Amazon del QN90C ma è comunque un televisore davvero molto allettante proprio perché uno è Samsung e quindi avere una marca comunque conosciuta una marca che ha una distribuzione e diffusione di centro di assistenza un po' in tutto il territorio italiano a molti può dare sicurezza ma soprattutto è la versione da 50 pollici quindi anche in questo caso una diagonale che può essere interessante per tutti coloro che non hanno tantissimo spazio ma vogliono comunque un televisore di fascia alta e soprattutto alla retroilluminazione mini LED di Samsung c'è anche tutta la serie Q60, Q70, Q80 che però appunto non consiglio perché secondo me ormai la serie QLED a quei prezzi lì che comunque rimangono alti proprio perché sono Samsung è un po' stata superata dovrebbero abbassare i prezzi a favore sempre più del mini LED questo rimane interessante perché comunque a poco meno di 1000€ avete un rapporto prestazioni-prezzo davvero davvero eccezionale gli assistenti vocali integrati sono Bixby quindi quello proprietario di Samsung e Alexa ed è una cosa da non sottovalutare proprio perché se avete per esempio come me un dispositivo Samsung se avete altri elettrodomestici Samsung il sistema operativo Tizen vi permette di controllare in un unico hub smart tutti i dispositivi connessi di casa vostra e questo è sicuramente un punto a favore se volete creare quella sorta di ecosistema eventualmente da controllare non solo tramite l'applicazione sul vostro cellulare ma anche comodamente seduti dal divano di casa in questo caso diagonale ovviamente 4K ci sono i 120Hz insomma c'è tutto quello che possiamo desiderare per guardare film per giocare e per utilizzare la TV a 360 gradi quindi secondo me è una delle migliori scelte appunto se siamo al limite dei 1000€ è ovvio che quando andiamo poi a superare 1000€ vengono in mezzo altre valutazioni che possono essere appunto la grandezza dello schermo ma anche la diatriba tra OLED e mini-LED che però ho già discusso in altri video che vi invito a guardare se siete ancora indecisi queste sono le scelte che farei io in un range di prezzo che va appunto dai 250 ai 1000€ poi se volete le 75 pollici comunque tipo l'icense da 75 pollici costa 949€ per cui rimane comunque un'ottima alternativa anche perché ha comunque la retroilluminazione mini-LED per questo video è davvero tutto fatemi sapere se ne volete degli altri sulle TV in particolare fasce di prezzo tipologie e approfondimenti noi come al solito ci vediamo al prossimo video iscrivetevi al canale e buoni acquisti ciao